costruire una centrale nucleare in lombardia e che problema c'è dice salvini ma non si trova un sindaco leghista disposto a dargli corda lapidario quello di gallarate non ci saranno centrali a gallarate varese o in lombardia fracassi pavia se sono disposto a ospitarla la sua è una domanda impropria ecco cosa c'è dietro l'ultima butada del leader del carroccio costruire una centrale nucleare in lombardia e che problema c'è matteo salvini risponde all'allarme sulle bollette provocandone uno nucleare per fortuna un falso allarme dovuto probabilmente alla difficoltà di avere un argomento da cavalcare una volta perduto il green pass perché in effetti qualche problemino c'è oltre al fatto che gli italiani hanno già detto due volte no al nucleare a 48 ore dall'uscita di salvini non si è trovato stranamente un solo sindaco lombardo in quota lega è disposto a farsi avanti meno che mai tra quelli che sono impegnati nella campagna elettorale per le amministrative che qualcosa dovevano pur dire l'uscita del leader leghista ai microfoni di radio anch'io radio 1 nasce da una domanda sensata che fare se come ha detto il ministro cingolani l'autunno riserva alle famiglie italiane rincari dell'energia elettrica attorno al 40 per cento salvini risponde senza tanti giri di parole che il nucleare si può fare anche in lombardia ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città spiega ricordando la presenza di centrali nucleari in tanti paesi europei quindi ancora il numero uno del carroccio ha senso andare ancora avanti così importando l'energia elettrica e pagando la bolletta più cara